Sindaco, credo che la prima cosa che bisogna spiegare ai nostri concittadini è quando l'acqua sarà chiusa, quando sarà riaperta e che tipo di servizio verrà erogato. L'acqua sarà chiusa mercoledì pomeriggio intorno alle 15, ma presumo che per tutta la serata di domani ci sarà l'acqua. Dopodiché la riapertura è prevista per sabato e poi ci vorrà il tempo per riempire i serbatoi. Ovviamente sappiamo che alcuni quartieri della città, soprattutto quelli alti, avranno difficoltà e quindi dovranno avere un po' di pazienza in più. Faremo in modo comunque in questi quattro giorni di chiusura programmata di far ruotare la fornitura d'acqua. Per cui riempiremo i due serbatoi, quello di Vescovatello alto e il Vescovatello basso, a giorni alterni. Il consorzio di bonifica fornirà comunque una quantità d'acqua che stimiamo intorno ai 100 litri al secondo rispetto ai 300-350 che consumiamo. Quindi avremo almeno un terzo dell'acqua necessaria per la città. E in questo speriamo che nella giornata di venerdì e sabato questi 100 litri possano aumentare ulteriormente a 140-150 litri al secondo. Saranno chiuse anche le scuole? Le scuole stiamo valutando la chiusura per tre giorni, quindi è un problema che questa volta stiamo affrontando in maniera organica anche con Calabria Verde, Sorical, il consorzio di bonifica e la protezione civile. Faremo dei punti dove distribuiremo dell'acqua, alle famiglie dove sono presenti disabili con Gesi porterà l'acqua e la protezione civile rifornirà le strutture pubbliche. Il sistema va tutto rifatto perché in ogni caso ci sono sempre perdite, ci sono sempre dei problemi e lei diceva che non è colpa nostra, noi stiamo cercando di riuscire a risolvere questo problema, ma tutto dipende dalla regione. Guardi, io capisco che quando manca l'acqua, così come manca anche a casa mia, ci siano dei problemi gravi, soprattutto col caldo d'estate, però la condotta che gestisce il Corap è una condotta che ha quasi 50 anni, è una condotta in calcestruzzo per cui ogni volta che si rompe è problematico fare le riparazioni, ma la cosa drammatica è che le riparazioni si fanno svuotando quella condotta. Ci vuole almeno un giorno per svuotarla e un altro giorno per rimetterla in pressione, per cui poi la riparazione si fa con semplicità.